sito web blog social media email questi sono alcuni degli strumenti che hai a disposizione per comunicare online attenzione per farlo bene hai bisogno di una strategia non perdere tempo a capire come si fa imparalo con noi scopri i nuovi corsi di gmasi academy dedicati alle strategie digitali sei un imprenditore coltiva nuove opportunità di business sei un responsabile marketing migliora la comunicazione online della tua azienda sei un community manager dai valore al tuo brand grazie ai social media per tutti voi c'è il percorso formativo digital strategy tre corsi sul web marketing da non perdere outbound e inbound marketing impara le strategie le tattiche di marketing diretto e indiretto educazione alla cultura digitale cambia testa e rilancia il tuo business sfruttando i canali online pianificare una strategia sui social media ascolta e coinvolgi i tuoi clienti a promuovere il tuo brand scegli il singolo corso oppure l'intero percorso formativo a un prezzo scontato su www.gmasi academy.ch www.gmasi.ch fidati di noi non ti deluderemo gmasi academy build your digital skills